Ciao ragazzi, in questa video lezione parleremo di una particolare forma di mercato che è il mercato di monopolio. Mercato di monopolio che ha delle precise caratteristiche ed in particolare le barriere all'ingresso che impediscono ad altri di entrare nel mercato e proteggono il potere contrattuale dell'impresa monopolistica. Tra le barriere all'ingresso di cui ci occuperemo vi sono le economie di scala, costi medi decrescenti all'aumentare della quantità prodotta che possono configurare una situazione di monopolio particolare che prende il nome di monopolio naturale.